Salve a tutti i giocatori e benvenuti al terzo video del giorno Era da un pochino che non li facevo, mi sto incastrando nel mobile Perfetto, cioè nel mobile, ho una cassettiera e mi stavo incastrando lì Tra scrivania Non vi frega niente, giustamente Nuovo supportino interessante per Fononevernova Prima di iniziare, come sempre, vi invito a iscrivervi al nostro canale Per rimanere sempre aggiornati col mondo di Yugi e non solo Prendiamolo anche come pretesto per un video per domani mattina Anche se credo che uno al volo lo porterò Perché teoricamente mi dovrebbe arrivare Crystal Beast Ma come sempre, non so se mi arriva domani Teoricamente dovrebbe arrivare domani pomeriggio ma non si sa mai Allora, First Tiger, Menghu Livello 4, 1700, molto tranquillamente Tutti gli altri mostri sul terreno perdono 500 di attacco Una volta durante la MyFace possiamo spaccare tutti i mostri In un attacco inferiore a questa carta È bellissimo Sfascia tutto randomicamente Ok, il problema è che non c'è effetto rapido Quindi annegare, vai, annegare Che è una bellezza, vè, tutto e tutto E poi cala di tutto Però una Tigre che sfascia randomicamente tutto quanto A me non mi dispiace Poi votarsi che c'avrà anche un modo per essere giocato da qualche parte Secondo me non fa così schifo Anche perché comunque tutti gli altri mostri sul terreno perdono 500 Quindi potrebbe essere interessante Purtroppo non è un effetto rapido Però insomma, Tigretta è interessante Detto questo ragazzi, fatemi sapere voi cosa pensate Sì, il video è molto veloce perché Volevo comunque portare questa cartina perché è caruccia Detto questo, fatemi sapere voi cosa ne pensate Noi come sempre ci vediamo nel prossimo video E un saluto a tutti